G-Style è con te e tu sei con G-Style? Ben ritrovati amici di G-Style da Stefano D'Alberto, questa è la puntata 372, numerosi argomenti, apriamo con inaugurazione, quella del Sushi Corner presso il Carrefour Market del Molino a Pescara. Siamo stati anche a Positano con un test drive DS7 Crossback, uno shooting fotografico con protagonista Yasmin e poi il wedding day Abruzzo Sposi itinerante nelle più belle location per cerimonia ad Abruzzo, in questo caso siamo a Villa Estea a Torino di Sangro. Una eccellenza ad Abruzzo con le nostre telecamere, Aldo Zilli protagonista di questa puntata e per concludere la fiera Sposi Love Story in collaborazione con Emozionando Wedding, un portale per matrimoni tutto abruzzese. Buona visione con G-Style.